di garanzia sulle anticipazioni dei crediti verso la pubblica amministrazione per facilitarne lo smobilizzo attraverso il sistema bancario. L'importo massimo garantibile per singola impresa è pari a 2 milioni e mezzo di euro. Quanto al recepimento della direttiva che lei ha citato del 2011-7, la cui portata applicativa non è circoscritta ai soli rapporti tra pubblica amministrazione e imprese, ma anche tra imprese stesse, il Governo assicura che tale recepimento avverrà nei tempi previsti. A tal proposito si sottolinea come nello Statuto delle imprese il termine per esercitare la delega sia fissato al prossimo 16 novembre, in anticipo rispetto al termine del 16 marzo 2013 assegnato agli Stati membri dall'articolo 12 della direttiva medesima. Grazie, onorevole Polidori. A facoltà di rispondere e di replicare, prego. Grazie, signor Ministro. Io la ringrazio per la risposta puntuale, tuttavia mi corre l'obbligo di sottolineare, come del resto le ha ricordato, che proprio il Ministero, insieme a Labi, insieme alla Cassa Depositi e Prestiti, hanno fatto in modo che ci fosse un aiuto cospicuo, uno specifico plafond, i crediti PA, proprio per consentire lo smobilizzo presso il settore bancario dei crediti vantati dalle PMI. Ma vorrei ricordare come, per una serie di motivi legati anche alla regolamentazione degli istituti di credito, non ci sia nessun impegno vincolante. Peraltro, soprattutto per i vincoli del patto di stabilità, noi sappiamo che le Regioni, i Comuni e le ASL sono tenute a rilasciare, possono quantomeno rilasciare i certificati di debito, dei loro debiti, senza porre la data. E questo chiaramente lascia maggior libertà e discrezionalità all'istituto di credito. Quindi, entro il prossimo 15 dicembre, questo vuole essere solo chiaramente una raccomandazione, le parti firmatari valuteranno l'opportunità di poter, in qualche maniera, prolungare l'utilizzo dei crediti PA. Il nostro auspicio è quello che, oltre a riguardare i termini, quindi oltre a riconfermarlo, si possa in qualche modo rifondere per dare maggior garanzia e maggior sicurezza alle PMI. Perché se è veramente desolante e triste veder chiudere aziende per la crisi congiunturale, quindi per la non erogazione di credito, mi crede veramente inaccettabile e deludente vederle chiudere perché non riescono ad esigere i propri crediti verso la pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione che nel momento in cui esige i propri crediti le assicuro che è puntuale. Grazie. Passiamo infine alla interrogazione numero 32495 dell'onorevole Garofalo, concernente misure a favore delle imprese di autotrasporto che utilizzano il trasporto intermodale strada mare, con particolare riferimento all'erogazione del cosiddetto ecobonus. L'onorevole Garofalo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole Garofalo. Grazie, signor Presidente, signor Ministro. Questa interrogazione appunto è per mettere in evidenza il grave problema che si è venuto a creare a causa del blocco dell'erogazione delle risorse stanziate a favore delle imprese dell'autotrasporto che hanno trasferito parte del loro traffico stradale sulle cosiddette autostrade del mare. La mancata erogazione sta causando gravi danni soprattutto alle imprese siciliane che hanno accolto positivamente l'opportunità.